La vicenda di questo ponticello è un po' l'emblema di come secondo voi nell'amministrazione comunale si stanno portando avanti le cose? Certo, nella stessa Fano TV era stato denunciato questo grado di incuria fin da aprile del 2018, ma quindi voleva dire che anche molto prima sicuramente la situazione era critica. Ci stupisce l'atteggiamento sia dalla regione, perché in realtà è la regione Marche che qui dovrebbe fare i lavori per mettere a posto questo ponticello, perché voglio dire 10.000-20.000 euro al massimo per rimettere a posto almeno in sicurezza e dare una dignità a questo ponticello, che crediamo forse è il ponticello più frequentato in assoluto nell'estate fanese, dove tantissime attività lavorano e quindi hanno bisogno di avere un supporto anche logistico e tecnico molto importante. E quindi questo ci stupisce da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista ci stupisce assolutamente l'atteggiamento del nostro sindaco, che non ha mosso ciglio di fronte a questa inerzia, si è accontentato di far mettere una transenna su una balaustra pericolante, ma per il resto non abbiamo sentito notizia da questo punto di vista per rimettere a posto questa situazione. Ecco, questo assolutamente dovrà cambiare, nel 2019 ci saranno le elezioni, il decoro, la cura della città per un turismo vero, dove la gente passando dice che bella città questa dove sto e come mi trovo bene anche per la qualità della vita. Dovrà essere il fiore all'occhiello per Fano e per tutto, anche poi l'entroterra, perché poi Fano dovrà essere assolutamente capofila di un turismo che si evolve dalla costa ma fino all'entroterra. Ecco, questa sarà la carta vincente secondo noi per il 2019 e per gli anni a venire. Questa è una questione solo economica o anche di volontà e di sinergie secondo voi? Beh, guarda, abbiamo dei consiglieri regionali in maggioranza, oltre all'opposizione chiaramente del Movimento 5 Stelle, come Minardi, Rapa, che sono molto attenti magari alle sagre e a tante altre cose, nel tagliare i nastri. Poi quando è ora di avere un atteggiamento risoluto per quanto riguarda questi problemi così gravi, sembrano scomparire. La regione fino adesso ci sta regalando solo bocconi amari.